Porsche Italia compie 30 anni di attività. Le tappe fondamentali di questa lunga storia sono state ripercorse a Milano in un incontro con la stampa. Nell'occasione Pietro Innocenti, direttore generale della filiale italiana, ha avuto modo di sottolineare come il 2015 sia stato un anno di soddisfazioni per il marchio, dai successi nel motorsport, culminati con la vittoria di Le Mans, agli obiettivi di vendita. 200.000 vetture consegnate nel mondo, un grande traguardo al quale ha contribuito anche l'Italia con 4.777 vetture immatricolate nel periodo gennaio-novembre, un ottimo più 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Porsche Italia nel 2015 ha celebrato i suoi primi 30 anni con numerose iniziative. Sono stati inaugurati i primi due partner classica Milano e Padova. Per i collezionisti più fedeli è stata realizzata una serie limitata di 30 vetture commemorative, 211 Targa 4S. Lo scorso ottobre ha avuto luogo la prima edizione del Porsche Festival sul circuito di Monza, un appuntamento che, visto il successo, avrà cadenza annuale. Per il futuro, Porsche Italia ha messo a punto un programma chiamato Porsche Business Excellence, che punta a migliorare ulteriormente la soddisfazione e la fidelizzazione di clienti.